allora innanzitutto non mi posso accostare molto perché c'è l'effetto boomerang del microfono vicino alle casse e mi fischia in modo esagerato tramite il microfono noi possiamo interagire con il volume e con gli effetti i sei effetti magici qui su possiamo aggiungere e abbassare il volume possiamo mettere in gioco delle luci diverse ovviamente possiamo parlare con due microfono ci sono come detto sei effetti magici di cui pronto questo è uno pronto pronto questo è tipo effetto bambino sì è qui la pezza è qui la pezza beh ce ne sono sei di effetti magici il volume mettiamo normale ecco qua il volume è anche molto bilanciato il cristallino la sua potenza si sente c'è il cambio brano e poi c'è il reverbero sì 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 sì